Ben ritrovati, io sono contenta di rivedervi anche con le faccette abbastanza allegre che tutto sommato state ingranando nella marcia, siamo a metà di questo percorso teorico tra virgolette e diciamo che la lezione, l'incontro, la chiacchierata, se voi la renderete tale, di stasera è proprio un anello di congiunzione scaturisce senz'altro dalla prima lezione che ci ha tenuto Monica Serrano ve la ricordate l'incontro tra etnie diverse, quante problematiche poteva presentare da un punto di vista umano, da un punto di vista sociale, teorico, il problema di conoscersi e stasera invece vi presento la dottoressa, la professoressa Vania Borsetti che è una docente, però perché è un anello di congiunzione? Perché questa signora lavora in un ambiente dove queste problematiche sono quotidiane insegnano una scuola dove la prevalenza degli alunni è di etnie fuori dall'Italia sono 19 nazionalità differenti quelle dei genitori dei bambini i bambini sono quasi tutti nati a Roma, noi siamo a Roma però appartengono a gruppi etnici differenti magari c'è una diversità anche tra di loro, tra abitudini anche se i bambini sono italiani, tra virgolette però vivono anche in mondi separati, tutto sommato e nasce da queste problematiche un nuovo concetto che fino ad ora non avevamo toccato che è quello della intercultura finora abbiamo parlato di mediazioni mediazioni linguistiche, mediazioni culturali e l'intercultura invece è un termine abbastanza giovane quasi come voi, no un pochino più vecchio ma che nasce proprio da quando hanno cominciato a frequentarsi gruppi di mentalità diverse nasce anche con gli scambi universitari tipo Erasmus ma a maggior ragione con questo mondo globalizzato dove si incontrano anche forzatamente tante etnie di diversa provenienza l'intercultura è una base non è tanto un concetto quanto è proprio uno stile di vita no tutto sommato poi ce lo spiegherai molto meglio tu perché questa signora praticamente fa pratica oltre che teorica oltre che una preparazione teorica fa effettivamente pratica di queste attività interculturali è un'esigenza ripeto nuova che è nata magari quando io facevo l'università perché si cominciavano proprio alla metà del secolo scorso ormai si può dire queste problematiche che sembravano anche senza soluzione un tempo dicendo che ognuno è diverso già accettarsi poteva essere un passo enorme e invece qui si parla anche di modificarsi tutto sommato nei reciproci atteggiamenti perché stare insieme tra persone diverse non deve lasciarci tali e quali bisogna anche in qualche modo cambiare quindi perché la nostra modo di pensare che è molto italiano centrico già sarebbe molto se fosse euro centrico ormai non è più sufficiente bisogna anche allargarsi a prospettive ignote se noi cominciamo a conoscerle forse non sono voi così ignote è interessante nel percorso che io ho letto della dottoressa Borsetti che questo percorso interculturale lo hai fatto anche attraverso linguaggi vari che non è solo la parola solo lo scambio di pensieri e di idee ma proprio di linguaggi perché ci si intende forse anche più facilmente attraverso il linguaggio dell'arte anche del canto, della musica del teatro quindi spero di averla presentata in maniera attraente perché tutto sommato mi piace sapere quello che dirà mi sono incuriosita anche leggendo un po' il suo percorso e quindi tanto ti ringrazio e ti ascolteremo volentieri intanto però partecipate pure voi fate lo sforzo io ringrazio voi perché mi avete dato la possibilità di ritornare a esperienze magari anche un po' passate ormai risalgono un po' dieci anni fa però è sempre bello poi ripensarle io innanzitutto vi saluto capisco anche io mi sarei messa in fondo sicuramente ad un evento del genere per come dire guadagnarmi qualche punto di familiarità posso dire anch'io di avere tre figli della vostra età uno in seconda superiore una in seconda superiore forse è una scuola che voi frequentate perché frequenta le scienze umane a Roma e le scienze umane e un altro al liceo linguistico al quarto calciatore e questo già mi fa guadagnare tanti punti e e là invece il primo vabbè il primo ormai è anziano ha 21 anni quindi insomma è fuori del discorso della scuola e comunque io invece lavoro sempre con i bambini io sono una maestra di scuola primaria quindi quest'anno ho ricominciato dalla prima e la storia che vi racconto è la storia della scuola in cui lavoro dal 2008 io faccio questo mestiere da da tanto da appena mi sono diplomata mi sono diplomata nell'88 poi ho studiato come raccontava la professoressa qui insomma ho fatto tante cose tante però sono sempre rimasta nella scuola i miei studi sono studi letterari mi piace studiare mi piace leggere quindi alla fine insomma sono riuscita anche a prendere la laurea su quello che mi piaceva va bene e e però mi sono trovata per caso dico la verità in questa scuola perché a volte la vita ci sceglie non è che sempre le cose insomma vanno secondo un piano determinato e in questa casualità sono riuscita a mettere insieme le tante cose che nel frattempo nella vita forse un po' l'inquietudine mi aveva portato a percorrere insomma a vivere e sono arrivata quindi nel 2008 avevo vissuto per sei anni in Sicilia e mi sono trovata in questa scuola di Tor Pignattara che è un quartiere a Roma si dice tutti i quartieri che iniziano con le torri non c'è andare ok sono tutti i quartieri di periferia pericolosi Tor Bella Monaca Torre Angela Torre Fiscale Torre Vecchia Torre Nova non c'è andare perché vai a finire nel baratro della periferia Tor Pignattara in realtà geograficamente è abbastanza vicino al centro però sempre Torre e infatti c'è tutti gli aspetti diciamo della marginalità del quartiere di periferia anche se sta vicinissima al centro quando sono arrivata però la peculiarità di questo incontro con questa scuola è stata che io sono arrivata in classe in una classe seconda perché erano scappati i maestri che avevano avuto le prime e avevo una veramente poi ce l'hanno raccontato dicevi noi non sapevamo come fare era una classe frequentata da bambini io chiamo del resto del mondo perché insomma cinesi rumeni parlo sempre della provenienza dei genitori loro nati a Roma come dicevamo prima però cinesi rumeni bengalesi soprattutto filippini insomma tutto egiziani si alternano diciamo varie provenienze avevo solo un'italiana calabrese ci teneva lei perché poi ne facevamo tanti confronti con le lingue e lei faceva pure il confronto mi spiegava insomma anche la sua lingua pomodori chiaccati lo devo pronunciare con l'h in mezzo perché poi la bellezza è il sollecitarsi no? allo scoprire somiglianze e differenze anche linguistiche visto che insegniamo l'italiano ma non è questo vi voglio raccontare quello che faccio in classe per insegnare l'italiano anche se alcuni potrebbero trovarlo interessante ma quanto un contesto una città una porzione di città un quartiere possa portare diciamo delle criticità incredibili cioè in questa scuola non soltanto i maestri si erano spaventati ed erano andati via ma tutto il quartiere diciamo rumoreggiava perché questa scuola che è una scuola storica la prima scuola del quartiere edificata nel 36 aperta nel 39 era stata rubata sottratta agli italiani veri ed era stata occupata dagli stranieri ed era diciamo il simbolo di un ghetto che si andava facendo a Torpignattara e che gli italiani veri non volevano ecco questo già racconto che io vi ho fatto è un racconto viziato perché questo è il racconto che veniva fatto veniva fatto nei media veniva fatto dai giornalisti che si assiepavano all'entrata e all'uscita all'inizio della scuola in certi momenti in cui bisogna raccontare della scuola e quindi si va a fare il servizio e via dicendo quindi era diciamo una notizia confezionata anche sobbillata devo dire la verità per diciamo per dovere diciamo storico di cronaca che c'erano c'era una figura politica diciamo che poi è diventata politica che si è candidata alle elezioni che comunque aveva questo ruolo di agitare dall'interno questo tipo di narrazione e quindi aveva costituito con altre due mamme quindi in tutto erano tre un comitato di mamme per l'integrazione e qui il mio invito è stare sempre attenti alle parole perché le parole si usano in una maniera e poi la realtà a cui danno vita è assolutamente opposta queste mamme per l'integrazione quello che dicevano era la stessa cosa che diceva in quel momento diciamo il governo e poi anche il governo della città l'anno successivo che che non andava bene avere classi con troppi stranieri quindi troppi stranieri non consentivano di imparare lingua e cultura italiana dunque bisognava mandarli via bisognava portarli via con i pulmini questa era la teoria cioè proprio era di battuta cioè ci si facevano delle assemblee municipali comunali dell'assemblea capitolina cioè era un tema il tema era andare con i pulmini davanti a scuola prendere tutti i bambini diciamo in più stranieri mantenere un tetto del 30% e poi portarli nelle altre scuole dove ce n'erano di meno così si assicurava l'italianità diciamo si dibatteva di questo si dibatteva anche del fatto sempre questo comitato mamma per l'integrazione che i bambini i bambini italiani si sentivano in colpa o strani perché mangiavano il prosciutto voi sapete benissimo che i musulmani non mangiano il maiale quindi essendo una grande percentuale di bambini bengalesi insomma religione musulmana eccetera c'è questa differenza anche nella mensa perché noi facciamo una scuola a tempo pieno quindi si mangia tutti insieme quindi c'è la dieta hindu la dieta musulmana senza carne di maiale senza carne di mucca insomma c'è tutto un lavoro che viene fatto ogni giorno e sembrava quasi una cosa che li facesse sentire in difficoltà non poter mangiare sempre insomma quello che erano abituati a mangiare a casa l'altra l'altra lamentela era che poi essendo anche delle famiglie molto spesso economicamente in difficoltà le gite venivano ridotte per colpa loro loro noi voi e l'altra l'altra lamentela era anche insomma che le feste di carnevale non si facevano perché effettivamente il carnevale adesso le fanno si mascherano tutti però all'epoca che era un po' agli inizi effettivamente il carnevale era una cosa un po' strana quindi non c'era questa abitudine anche là ci si sentiva strani insomma queste erano le tematiche ma su questo se voi avrete la curiosità di andare a verificare quello che io vi dico che non sia che non sia diciamo frutto della mia immaginazione basta che digitate Pisacane Scuola Carlo Pisacane Roma e troverete tutto il dibattito sui talk show sui giornali che in quegli anni ha animato ora perché ho fatto questa premessa cioè perché ci stai parlando di una cosa così particolare lontana da noi che abitiamo a Terni perché molto spesso uno parte da un'esperienza particolare che poi ritorna diciamo come topos come luogo di ragionamento di riflessione di esperienza che condividiamo adesso insieme utile nel corso della vita come quando studiate l'amore cavalleresco non è che poi dopo insomma ritrovate quella fanciulla o quel cavaliere però ci serve per darci una cornice di quelle che sono parole sentimenti intenzioni o le invettive insomma dantesche non trovate quella situazione lì ma quella capacità cattiva di usare le parole per colpire uno che se lo merita vi ritornerà sicuramente a gola a un certo punto quindi quello che noi facciamo adesso oggi è di costruire insieme un tessuto di senso e di riflessione perché potrebbe capitare anche qui allora io mi sono trovata in questa situazione e la prima cosa che mi stonava e mi dava tanto fastidio in questo fatto che bisognasse avere classi quasi pure quindi solo col 30% di eventuali stranieri che adesso io devo chiamare stranieri per andare con forza nel discorso ma abbiamo già premesso che non sono tali sono nati a Roma e che comunque insomma sono si dovrebbe dire insomma italiani di seconda generazione o di terza generazione comunque insomma nati e vissuti nella cultura romana italiana e sicuramente c'è anche qui come è normale perché è il mondo che è di per sé cosmopolita non si è mai stato fermo nessuno non essendo alberi andiamo insomma un po' dove pensiamo sia meglio per la nostra famiglia ecco per il nostro futuro per fortuna quindi la prima cosa che stonava con questa con questa ricetta di di percentuali di calmierare i numeri per me era il dettato costituzionale voi sapete che la nostra costituzione parla della scuola sapete no? ve lo ricordate in che articoli parla della scuola così ma non è che è un'interrogazione dico per dire vi ricordate un po' le parole che dice sulla scuola nei principi fondamentali della costituzione no no io li richiamo figurati no era santo per era un po' retorica per dire magari uno dice io è un po' un riconoscimento reciproco però insomma senza nozionismo però dice che la scuola è aperta a tutti senza distinzione di religione nazionalità sesso lingua eccetera e che vanno date pari opportunità a tutti per andare avanti negli studi che vabbè l'arte diciamo la scienza sono libere libero nell'insegnamento insomma questi sono un po' i capisaldi che parlano della nostra vita dentro la costituzione quindi mi sembrava da averci ragione non di voler essere contro qualcuno ma di dire la nostra costituzione non ci permette proprio di dividere in parti diseguali la sua popolazione scolastica e quindi se la vogliamo proprio dividere dobbiamo dividere in parti pari insomma mandateci gli italiani qua deportate gli italiani nella nostra scuola cioè c'era qualcosa che strideva però quello che io voglio raccontarvi a parte diciamo l'esperienza agli aneddoti che sono quelli che rimangono più impressi e quindi sono importanti noi qua stiamo facendo un seminario di filosofia che è un'attività bellissima perché è l'attività del ragionare insieme del pensare insieme e il nostro titolo è le relazioni di cura quindi come noi ci prendiamo cura di quello che ci succede vicino e anche di noi stessi ora quando noi capitiamo in una situazione che ci crea disagio in cui non ci riconosciamo ma in cui tutti quanti sono d'accordo a dire il contrario e così era quella situazione perché anche le maestre dentro scuola pur essendo brave però erano molto impaurite da questo attacco esterno quindi si richiudevano non dialogavano non rispondevano uscivano poco quei bambini erano molto molto intimidite avevano paura sempre di dare un po' il fianco per ulteriori attacchi mentre a mio avviso bisognava aprire 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 farci vedere far vedere come lavoravamo fare laboratori aperti con i bambini chiamare i genitori insomma creare quell'intercultura che diceva prima no? la nostra introduzione in cui significa che non ci sono io che spiego a voi come si sta al mondo ma che ci stanno tanti mondi e ognuno ci dice qualcosa che vale la pena imparare però c'è bisogno di ascolto e di azione di iniziativa da costruire insieme per fare questo c'è voluto tanta fatica un po' di fortuna e alcuni compagni di strada i miei compagni di strada sono stati l'ho già detto la Costituzione di sicuro e poi altri pensieri che forse qualcuno lo conoscete anche voi io insomma chiaramente sono datata quindi i miei riferimenti sono datati io sono nata nel settanta quindi per me c'è mi riecheggiava nella testa un maestro sono una maestra Mario Lodi però forse l'avete letto ve l'hanno letto le vostre maestre avete mai letto CV sì il libro che ha fatto Mario Lodi con i suoi bambini però Mario Lodi ha pure raccontato della scuola e lui raccontava che nel suo paesino del nord sperduto e nelle valli diciamo in cui insegnava i bambini non parlavano la stessa lingua perché ogni anno si trasferivano i genitori per lavorare nella valle al di là del monte e nella valle al di là si parlava un dialetto completamente diverso della valle al di qua e quindi lui si trovava comunque con tutti i bambini figli non di alfabetizzati come nel mio fortunato caso perché molto spesso arrivano comunque delle famiglie più che istruite comunque tutte alfabetizzate arrivavano dei figli di analfabeti contadini che andavano a lavorare una terra non loro e parlavano dei dialetti che non si capivano tra di loro quindi non è che la scuola italiana non avesse già fatto questa esperienza di insegnare gli italiani l'italiano a persone parlanti altre lingue è il mestiere della scuola cioè la nostra scuola si fa così allora quello su cui io voglio ragionare con voi è che dietro la notizia dietro il racconto se c'è tanto altro in noi di riferimenti di letture di vissuto possiamo andare a vedere a illuminare ogni parola a vedere se ogni parola è una verità oppure no quel racconto gli stranieri non mangiano il prosciutto e il ghetto e la scuola ce l'hanno rubata era degli italiani e via dicendo quanto è vero non possono imparare la cultura italiana perché sono troppi quanto è vero allora chi mi dice che non è vero per esempio l'esperienza di Mario Lodi mi dice che non è vero è già stato fatto quindi questo argomento per favore rimettetevelo in tasca portatelo a casa perché non non funziona più e fare le percepite percentuali del 30% non è possibile perché la Costituzione ci dice che abbiamo tutti pari dignità e pari scelta pari diritto di scelta per l'istruzione quindi anche i genitori che abitano nella via di fronte a me non vedo perché dovrebbero andare due quartieri più in là per soddisfare questa ricetta del tetto e questo noi avevamo il coraggio di dirlo anche all'assessore della cultura che viene ad inaugurare la nostra scuola e riuscimmo a spiegargli questo nostro punto di vista alla luce della Costituzione e poi sempre per caso perché a volte il caso si combina siccome nella nostra scuola era vivo un coro è vero a me piace tanto fare i cori li faccio io li faccio con i bambini e erano i primi giorni di scuola sapevamo che veniva questo assessore che era della giunta Alemanno che a voi non vi suona nulla però insomma Alemanno è un'importante figura della destra romana e quindi ha una visione rispetto ai fenomeni migratori diciamo al suo governo e la sua la sua assessora in quel momento insomma era convinta di questa ricetta del spostamento dei bambini e del tetto del 30% che poi il nostro ministro dell'istruzione riprese facendo proprio una legge a proposito noi quindi arriviamo a questi primi giorni di scuola a questa inaugurazione e ci chiesero noi coro di cantare come si fa avete visto quelle kermesse ufficiali coro della scuola la preside eccetera e noi andiamo col coro della scuola i primi giorni andate a bambini e dicono bambini ma non voi vi ricordate dei canzoni bene che dobbiamo cantare domani e loro erano tutti i bambini sono molto entusiasti poi insomma e quindi si ricordavano bene Shur Padrunda li belli brachi bianchi non so se voi le conoscete perché poi io insegno pure queste canzoni qui che mi rimangono impresse è una canzone di lavoro è una canzone che racconta le mondine insomma quando tornavano a casa e dicevano caro padrone dacci i soldi che noi finalmente ce ne torniamo a casa abbiamo finito di lavorare di soffrire dentro le risaie è molto ritmata è molto allegra diciamo e anche molto insomma cattivella col padrone e i bambini si ricordavano bene bene questa canzone quindi noi cogliamo la palla al balzo dopo che l'assessora ribadì che quella scuola doveva cambiare i bambini dovevano essere di meno dovevano arrivare al tetto del 30% se no non diventavano abbastanza italiani e noi rispondemmo la Costituzione non dice così e noi comunque l'italiano lo impariamo anzi impariamo anche dei dialetti difficili dell'alta Italia adesso infatti le cantiamo short padron dalle belle brachie bianche e intonammo questo canto l'assessore arrabbiatissima chiuse la cerimonia andò via e noi eravamo preoccupatissimi perché cioè erano proprio arrabbiati veramente comunque sono delle istituzioni importanti e invece il pomeriggio il sindaco chiese scusa e disse ma voi avete capito male l'assessore si è espressa male io dico che questi bambini sono tutti cittadini romani proprio una conquista e già un altro argomento l'abbiamo smontato e via non si può usare più sono fatti importanti nella vita o morte di una scuola perché là si giocava proprio la vita o la morte di quella scuola noi eravamo arrivati ad avere soltanto nove classi una sola nuova prima e la legge diceva la legge nazionale il ministro che dovevamo farle col 30% quindi vai attiva di ricorsi genitori dibattiti e via dicendo questa cosa era un bel punto a nostro favore e infatti poi le cose sono cominciate ad andare un po' meglio arrivo subito svelo il finale cioè lo spoiler immediatamente noi adesso abbiamo 17 classi il prossimo anno 18 di scuola primaria da nove ok quindi dal 2010 in cui è successa questa cosa 2011 al 2022 in cui si sono formate le ultime prime siamo arrivati a 17 classi prossimo anno 18 abbiamo aperto anche la scuola secondaria di primo grado cioè la scuola media pochi anni fa e abbiamo due sezioni di prima due di seconda scusate tre sezioni di prima due di seconda due di terza prossimo anno facciamo quattro sezioni di nuove prime abbiamo anche una scuola dell'infanzia comunale che non può salire sopra le sette sezioni perché proprio lo spazio non lo consente non abbiamo più diciamo il problema delle quote e abbiamo attraversato una crisi reinventandoci non essendo più gli stessi e però non rinunciando a stare nella lotta e ad essere guardati anche molto male sia dall'interno appunto che spaventato non voleva reagire sia dall'esterno che aveva manforte come abbiamo detto dai medi eccetera che cosa altro ci ha aiutato abbiamo detto appunto dei compagni di strada che parlavano certo come Mario Lodi e non soltanto per me un po' nella testa ci sono anche altre figure per esempio come Don Milani che è un altro agguerritissimo sul fatto che la scuola dovesse essere importante soprattutto per quei bambini che non hanno una difesa familiare una famiglia che ha già delle solite basi culturali perché la capacità di parlare la capacità di scrivere è la capacità di agire e di pensare noi siamo e facciamo soltanto le parole che conosciamo questo è un tormentone per i miei alunni bisogna sapere tante parole perché ogni parola è un'idea meno parole meno idee e diceva Dario Foy in un suo spettacolo di tanto tempo fa mamma mia aveva scelto solo morti però insomma è tipo una galleria di quadri antichi però diceva in questo spettacolo che si chiamava Ci ragioni il canto che invece è molto vivo secondo me l'operaio conosce 300 parole e il padrone è mille per questo lui è lo schiavo e lui è il padrone sintetizzava tantissimo questa idea però questa idea è reale quindi la capacità di parola il popolo c'è là perché ha una sua cultura particolare ma per stare nel mondo deve diventare anche abilità di scrittura abilità di argomentazione insomma bisogna crearsi uno spazio in questo senso e quindi per me un altro compagno è stato anche Don Milani come Roberto Sardelli che ha lavorato nelle nelle borgate e se voi vi leggete il suo racconto della scuola 725 che era una baracca in cui lui faceva scuola ai bambini secondo me sarete contenti di incontrarlo a vostra volta perché è un libro molto vivo che ci dà l'idea di come una situazione assolutamente deprimente possa trasformarsi anche soltanto per la capabilità e l'intuizione di pochi in tutto questo oh meno male va dai piccolo perché è più importante che ora è un po' di farlo della tua esperienza nella scuola di una problematica ecco per quanto di voi ce la chiediamo per fare una pausa di discussione di cose importanti che da ora ha letto la nostra banca e che a meno a me hanno molto interessato cioè prima domanda il problema di che cosa si è trattato qual è stato il problema che si è trovata a dover risolvere in quella prima elementare del Pisacane e poi perché ci siamo rallegrati almeno io e altri anche lei stessa della soluzione che poi è stata adottata a voi la parola io ho qua il microfono qualcuno che dice qual era il problema che consisteva il problema poche parole semplici forza beh insomma io credo che avete abbastanza seguito anche se non tutti però era un problema serio no? qual era la tipologia di questa classe come si presentava chi prende la parola forza che fa un servizio agli amici non ci fate perdere tempo ragazzi che il tempo era un problema serio no? sull'identità della scuola perché? perché era pieno di stranieri e quindi per gli italiani diciamo era diventato un po' problema per loro anche per la menza e c'è in generale sì per tutto e quindi allora eh e che tipo quali erano le possibili scelte di fronte a questo problema le possibili vorranno diciamo mandare via un po' gli stranieri perché diciamo che erano troppi quindi li volevano mandare via hanno fatto pure diciamo causa al comune per questa cosa qualche qualche altra riflessione meno male che vi ha salvato in corner però adesso mica è finita poi allora com'è andata a finire questa storia com'è andata non sempre lei qualcun altro com'è andata come si è conclusa la vicenda gli aiuti che ha citato la Vania Borsetti no? Lei nel combattere per una sua tesi ha trovato sostegno in altri certamente presenti ma anche in testimonianze particolari quali? La Costituzione vi ha richiamato poi come si è risolta la vicenda forza poi andiamo avanti prego c'è una mano lei vuole parlare gli passi il micro comunque c'era l'obiettivo di creare un'intercultura dentro questa scuola quindi anche avvalendosi della Costituzione o degli insegnamenti di figure storiche per creare comunque un dialogo e un rapporto anche se si faceva parte di culture diverse è la posizione appunto della dottoressa quindi di creare questa intercultura sì grazie a tutti ho detto di nuovo qual è stata l'esperienza che ha convinto che poteva andare bene così anzi era molto bello che fosse così varia questa classe che tutti avevano lo stesso titolo di cittadinanza qual è l'esperienza che hanno fatto hanno fatto una conferenza i bambini no che hanno fatto avete sentito hanno cantato oh hanno cantato eh in una lingua che non era la loro è vero o no scusa no no prego anzi io vorrei cioè vi prego anche per dare un senso nuovo alla storia che riracconto di di farmi qualsiasi domanda vi venga in mente perché sicuramente mi porta ad aprire magari una riflessione che non ho mai fatto no io dopo aver ricevuto l'invito di incontrarvi ho pensato a che titolo dare a questo incontro appunto abbiamo detto la relazione la cura delle relazioni e io ho pensato a questo titolo non eh soltanto per raccontarvi tutta questa esperienza ma proprio per riflettere con voi su relazione e rappresentazione cioè cosa ci viene raccontato quanto è vero quello che viene rappresentato come è vero come lo costruisco il mio eh racconto come faccio la mia lettura delle cose entrando in relazione diretta questa è la mia risposta diciamo entrando in relazione con le parole che vengono usate per rappresentare una realtà alla luce di altre parole no che ne svelano magari la verità o meno e poi diciamo il titolo prosegue dicendo personaggi e autori della solidarietà sociale voi penso che a qualcuno suoni no questo furto che io ho fatto di personaggi e autori che è una bella commedia di Pirandello però per renderla recente c'è un film appena uscito quindi è viva non parlo solo di cose vecchie che si chiama La stranezza forse l'avete visto oppure potete andarla a vedere perché è bello ci sono figarra e pigone forse quelli sono più conosciuti e racconta questo autore importante e racconta appunto a me ha fatto ha fatto bene per usare questa suggestione no uno nella vita che vive è comunque un personaggio comunque sia è una persona che si muove nelle cose chi è l'autore chi scrive chi scrive il ruolo che noi abbiamo nelle cose che viviamo possiamo scrivere insieme noi diventare autori possiamo restare personaggi e lasciare che qualcun altro sia l'autore della nostra storia e quindi è un interrogativo sempre aperto perché come diceva giustamente nell'introduzione ripetimi il mio nome perché me lo so dimenticare Maria ecco come diceva Maria nell'introduzione l'intercultura la relazione cioè esiste quando viene fatta ma anche la democrazia tutto esiste solo se si attiva se no non esiste esiste nell'iniziativa quindi mi sembrava bello riflettere con voi su questa possibilità personaggi autori della solidarietà sociale certo io nella vita ho bisogno di prendere posizione in questo senso cioè non immagino una vita in cui mi faccio gli affari miei me li faccio come tutti perché è vitale farsi gli affari propri averci dei tempi e delle cose belle da fare per sé è chiaro ma non mi posso immaginare una vita se a fianco a me appunto i miei alunni o i miei vicini non condividono diciamo almeno una vita giusta insomma quindi dove c'è ingiustizia uno può scegliere tra solidarietà o indifferenza e la solidarietà è una cosa che si costruisce ognuno nel posto in cui vive cioè ognuno per il personaggio che è io so nella mia vita sono una maestra e quindi devo filtrare attraverso questo personaggio e la cornice però diciamo autoriale quindi la la cornice di senso me la costruisco insieme ad altri attori lei ricordava giustamente vi sollecitava diciamo a ricostruire un po' in questo testo collettivo orale che avete fatto adesso un po' quello che abbiamo appena detto ma in realtà noi abbiamo fatto delle azioni delle azioni precise per esempio la preside che doveva ricevere le iscrizioni dei bambini figli di famiglie straniere le rifiutava li mandava via senza spiegazioni e quindi era un fatto molto grave perché tu devi innanzitutto ricevere la richiesta scritta protocollarla e poi dare una risposta scritta protocollarla puoi mandare via una persona che siccome magari non ha strumenti linguistici non si sente un soggetto di diritto forte non ti risponde non replica quindi noi intercettavamo queste persone che magari si rivolgevano a noi con fiducia andavamo insieme a me venivano dei genitori appena conosciuti non c'era un'alleanza stabilita ma c'era proprio un intendersi un dire no vabbè proviamo a far così andavamo e chiaramente non è sempre comodo mettersi contro un tuo dirigente no? perché io come personaggio sono una dipendente non sono mica capo di nessuno quindi quando ti metti contro diciamo chi ha più potere di te rischi rischi vieni minacciata vieni insomma ridarguita e via dicendo però te la puoi giocare sulla rappresentazione perciò io rendevo sempre con le persone che lavoravano insieme a me e che poi andavano a invece a pretendere l'iscrizione a pretendere l'accoglienza a pretendere l'inserimento di ogni bambino che ne faceva richiesta andavo a ricercare sempre delle diciamo dei racconti pubblici di questo quindi attraverso le radio attraverso un articolo attraverso una situazione di denuncia collettiva di dibattito non si lasciava all'oscuro tutto l'accadimento e questo sta anche nella scelta di rappresentare e raccontare costruire un'altra narrazione cioè ora noi nella narrazione collettiva siamo una scuola interculturale in cui io per la prima volta questo è il primo, secondo, terzo quarto ciclo sapete i maestri contano così la vita ogni ciclo cinque anni cinque anni ogni volta che vai e torni questo è il mio quarto ciclo alla Pisa Cane per la prima volta io ho una classe a percentuali rovesciate cioè ho due terzi di bambini figli di italiani diciamo di lunga data sì, grazie e un terzo figli del resto del mondo mentre ho sempre avuto appunto dal novantotto per cento poi due terzi nei due cicli centrali adesso se sarebbe accaltata la percentuale che vuol dire? vuol dire che la narrazione che gli italiani non volevano gli stranieri non era vera era quella che si sentiva di più era quella che era più amplificata era quella che strillava meglio era quella che aveva più strumenti di scrittura nei giornali nel far rimbalzare nei talk show e via dicendo la notizia ma se tu ti riguadagni il tuo spazio o lo costruisci attraverso appunto eventi iniziative feste momenti di incontro in cui si mostra questa realtà bellissima questa città cosmopolita che è la nostra scuola comunque migliaio di persone tutte veramente differenti e l'interesse completamente si inverte e il racconto cambia e quindi arrivano tutti più attenti a questi cambiamenti e dicono anziché mandarli in una scuola italiana normale ma mandiamolo alla Pisacane che fanno un sacco di cose incredibili perché perché appunto aprirsi per noi è significato aprirsi a laboratori con artisti aprirsi a percorsi interculturali nella città andare a fare lezioni fuori farci vedere esistere è voluto anche significare insomma saper innescare relazioni importanti con persone che hanno messo a disposizione la loro arte e la loro capacità anche gratuitamente tantissime volte perché anche loro credevano e credono nella solidarietà sociale quindi si può trasformare un territorio ci chiediamo spesso che fine avrebbe fatto Torpignattara se la Pisacane avesse chiuso invece se fossimo rimasti tutti impauriti impauritissimi da quel racconto e basta ci fossimo arresi comunque c'era una legge una legge è una legge quante volte quando facciamo la giornata della memoria noi ci raccontano questa cosa che è arrivata a un certo punto nel 38 la legge razziale ha detto che gli ebrei devono andare tutti fuori io penso che nella testa di ognuno di noi c'è sempre questa domanda ma io che avrei fatto io personaggio studente io personaggio maestro professore ma io che avrei fatto all'università non ci dimentichiamo che quasi tutti c'è tranne veramente uno hanno aderito diciamo a questo tipo di ordinamento pur di non perdere il posto di lavoro che avremmo fatto ecco noi abbiamo avuto una legge che diceva che le classi si potevano formare solo col 30% questa legge non è stata abrogata esiste ancora non è applicata non è applicabile non è applicata cioè dovrebbe per applicarla si dovrebbe aprire un bel contenzioso nella società cioè ci sarebbe un dibattito enorme ma come guardate quelle scuole come funzionano bene come noi c'è un'altra scuola all'esquilino che funziona benissimo altre scuole che negli anni abbiamo incontrato e incoraggiato in questo senso io no con la sua storia diversa perché dovremmo chiuderle se funzionano quindi la realtà supera in questo caso la rappresentazione della legge e ne crea un'altra che la schiaccia la ingloba cioè rimane muta questa legge ingiusta insomma per chi è d'accordo a ritenerla tale quindi è una cosa importante però io non vi volevo raccontare soltanto questa storia bella se vi va di vederlo e se qualcuno vuole andare sul facebook dei genitori che lo so che voi non ce la vede c'è la pagina del genitori dell'associazione Pisacane 099 che è questa associazione di genitori che si è formata poi nel tempo i genitori nostri sono attivissimi fanno tantissime cose la scuola è sempre aperta tutto il pomeriggio insomma ci sono moltissime attività questa cosa chiaramente è cresciuta piano piano facciamo delle grandi feste se volete venirci a trovare all'inizio di giugno o fine maggio decidiamo sempre la data insomma in quel periodo facciamo questa festa dei cibi di tutto il mondo concerti insomma taste the world si chiama è molto carina e troviamo mille occasioni e grande pregio si deve molto anche a questo attivismo dei genitori voglio con tutto il cuore ringraziare ognuno ma in particolare anche il nostro maestro che è stato Francesco Donucci che era un collaboratore di Gianni Rodari questi sono nomi che comunque un pochino vi risuonano che ci ha guidato molto in questa trasformazione e ci ha messo anche seduti a ragionare con la storia e col da farsi ci ha dato un metodo democratico per confrontarci in cui non c'era l'assemblea del chi parla più a lungo come mi docca fare a me oggi ma c'era un'introduzione su delle degli esempi storici poi ci si divedeva in gruppi tutti diversi quindi maestre elementari maestre materna maestre genitori tutti misti noi facevamo almeno sempre tre gruppi e è una cosa bellissima questa ve la voglio dire perché secondo me è bella all'inizio si eleggeva un portavoce quindi non è che parlava chi c'ha più chiacchiera ma veniva eletto un portavoce quello lì doveva avere la capacità non di parlare di più ma di ascoltare di più perché poi doveva relazionare nella terza fase della sintesi tutto quello che era stato detto nel gruppo ecco questo funzionamento che noi abbiamo praticato per tre anni pensate per tre anni formazione gratuita da parte di Tonucci ma anche da parte nostra perché non erano ore contemplate da nessuna parte ci siamo visti abbiamo ragionato su di noi su da farti questo è stato un laboratorio incredibile per noi anche adulti che ha poi portato ad attraversare questa trasformazione però appunto a parte questi tributi importanti io voglio anche raccontare l'altra faccia della medaglia perché relazione rappresentazione personaggi autori non sempre giocano diciamo per il successo a volte ci sono dei fallimenti che costano cari ed è bene anche riflettere su questi che Torpignattara non è un quartiere tutto stelle la storia che vi racconto dicevo va dal 2008 a oggi la crisi si è superata già diciamo dal 2000 superata non si è superata mai la crisi è sempre in alto diciamo però la trasformazione insomma della percezione della scuola si è cominciata ad avere già nel 2015 eccetera anche pochino prima ma nel territorio non è stato indolore cioè queste personalità che volevano identificare il territorio come un territorio non solidale non d'accoglienza erano molto attive e presenti non erano marginali e nel 2014 a settembre è accaduto un episodio che anche questo trovate nelle cronache invece terribile cioè un ragazzo di 28 anni pakistano è stato preso a pugni e calci diciamo da un ragazzino di 17 quindi torniamo diciamo un po' più nelle vostre corde nella vostra età ed è morto per queste per le percoste ricevute e se voi cercate questa notizia è una notizia che arriva dopo diciamo settimane di agitazione nel quartiere gestite nel senso della sicurezza qua ritorniamo sempre a parole linguaggio quale lingua parliamo la sicurezza sta nel normalizzazione nel cacciare quello che è diverso quello che non è simile a noi appunto quindi di nuovo gli stranieri che pregano per strada il venerdì e che insomma questi odori forti dalle case di aglio cioè il racconto poi si tinge di cose veramente sintomatiche no? di quanto proprio dia fastidio quello che non non ci è simile e quindi in queste settimane in cui era montata una protesta un'agitazione perché noi abbiamo a Roma questo gravissimo problema di spostarci tutti i sindaci che vengono eletti dicono adesso noi facciamo una città in 15 minuti 15 minuti non è neanche l'attesa ad un autobus cioè impensabile praticamente arrivare da una parte all'altra di Roma in 15 minuti impensabile e quindi chiaramente spesso diciamo le agitazioni nascono intorno al passa di meno mi togli un mezzo ridammi il mezzo e via dicendo da noi c'è un trenino giallo un treno piccolino che attraversa tutta la via Casilina che porta verso il centro e porta anche alla stazione che ho preso anche io oggi per prendere il treno e venire qui e ogni tanto dicono lo leviamo perché non ci può stare una ferrovia a cielo aperto con le strade aperte insomma in città e la gente dice no che ce lo levate ce levate questo siamo finiti siamo morti a Torpegnattara quindi in quel momento era successo che appunto si doveva togliere questo trenino sale la protesta e questo ve lo dico perché protestare è una cosa che sta nella normalità della vita collettiva ci si organizza e si protestano però bisogna averci anche lì tanta preparazione bisogna avventarsi allora costruire l'iniziativa difendere l'iniziativa curare le parole dell'iniziativa invece questa protesta è stata diciamo un piatto proprio appetitoso per chi aspettava di capeggiare con le parole del malumore e del risentimento quindi sono arrivati diciamo dei politici di professione con parole xenofobe e razziste hanno conquistato magari anche i negozianti i negozi sono importantissimi in un quartiere sono la porta continua di quello che di chi va di chi viene di quello che si presenta nel quartiere come importante perché viene venduto più questo quell'altro eccetera e io me lo ricordo molto bene in quelle settimane c'era un grande malumore un grande parlare e questo accadimento così violento per cui il papà di questo ragazzo incitava proprio a ferire a colpire ad ammazzare diciamo questo altro ragazzo poco più grande perché cantava le sure del corano perché era addolorato da una perdita da un lutto nel suo paese in pakistan e sarà stato insomma nella sua disperazione non avendo una casa in cui elaborare questo lutto lo faceva nel caldo diciamo torrido romano delle strade e queste persone poi sono state condannate e via dicendo ma è stato un evento molto difficile perché in realtà tutta la via di romani dove viveva questa famiglia insomma che ha colpito questo ragazzo si è schierata a favore dell'aggressore addirittura a quel tempo andava di modo ancora tra i ragazzi facebook 700 tipo sostenitori per liberare questo aggressore e un giornalista ci ha ricostruito tutta questa storia in un libro interessante si chiama Giuliano Santoro al palo della morte si chiama il libro al palo della morte perché chi ha mai visto il film di perdone in cui lui si dà appuntamento a Ferragosto con l'amico per partire mi ricordo per la Romania dice ci vediamo al palo della morte che era un traliccio del tufello insomma è diventato un modo di dire romano per dire stai proprio allo sprofondo oltre te niente e quindi lui raccontava un po' il nostro territorio come palo della morte e racconta proprio questo clima che si è creato nello stesso momento nel quartiere a fianco venivano tirate delle più che altro non bottiglie incendiare ma venivano proprio scoppiate insomma delle cose dentro un campo di accoglienza insomma immediatamente cambia il volto di un territorio quando tre o quattro in maniera organizzata vogliono imprimere a quel territorio un altro racconto un'altra situazione un altro polso e chi è come dire non autore ma personaggio oggetto di questo di questa retorica di questo martellamento diventa poi un braccio a volte inconsapevole di questa istigazione quindi quando noi viviamo delle situazioni secondo me è molto importante insomma che le viviamo svegli che le viviamo non dando per scontato che quello che si dice è e vedendo chi è che trama per quali fini a chi giova una situazione perché viene mossa perché vengono mosse degli equilibri e non è che volevo concludere diciamo con questa con questa tipo di esperienza per rattristare diciamo la la nostra la nostra giornata però per dire che farsi personaggi e farsi autori capire qual è il proprio ruolo è una possibilità che non è mai data per sempre una volta per tutte è sempre contesa dal dal vivere no? queste cose non so a me aprono tante riflessioni mi ricordano tante cose però non voglio continuare a parlare io mi ricordano tanti autori anche che mi parlano nella testa no? cioè per esempio pensare che dà fastidio tutto quello che è diverso cioè pensare che l'omologazione sia un fine e delle volte mi rendo conto che non è una cosa nuova adesso magari è un po' più evidente perché anche l'estetica è più più prepotente no? bisogna essere un po' tutte pettinate così vestite così è sempre più forte questa cosa però è partita da tanto da tantissimo tempo la raccontava appunto Pasolini una marea di anni fa e diceva che era il nostro pericolo maggiore quello dell'omologazione dell'appiattimento di tutte le meravigliose diversità culturali che ci sono nel nostro paese no? che è anche un appiattimento linguistico che parte da ancora prima perché la nostra storia comunque si è confrontata anche sull'uso di una lingua che fosse una lingua sola il toscano per tutti o che fosse l'uso di una lingua che rispettava i dialetti allora quando parliamo di diversità e di intercultura delle volte ci sembra di essere sbalzati in un territorio nuovo in un fatto portato da chi viene da oltreoceano insomma da paesi non italiani ma in realtà l'intercultura parte proprio da dentro il nostro di paese il nostro vissuto culturale noi stessi come dialoghiamo diciamo con le nostre culture interne perché se dialoghiamo solo per assimilarle per renderle una sola riconoscibile basata diciamo sugli obiettivi del consumo poi dell'apparire non stiamo facendo un lavoro come dire di vivificazione di incontro reale con queste culture e quindi con lo stesso sguardo ci approcciamo alle culture nuove che come dico sempre l'unica differenza che c'è tra l'immigrazione che c'era a Torpignattara negli anni 60 e quella che c'è adesso che prima si prendeva solo il treno o il furgone e adesso è accessibile l'aereo però poi la percentuale degli immigrati è la stessa e il nostro gelataio di zona in un'intervista ai miei bambini di Quinta perché di Quinta insomma hanno soddisfazione raccontava questo racconto bellissimo di lui che arrivava dalla Puglia con il furgone il mobilone della casa caricato che gli sbatteva addosso per tutta la notte per tutto il tragitto il fratello che lo teneva eccetera eccetera e arriva a scuola va alla Pisacane diciamo la prima scuola del quartiere e torna a casa e dice alla madre mamma ma noi siamo italiani e dice certo che siamo italiani dice in dialetto pugliese stretto certo che siamo italiani e dice no a scuola mi hanno detto che io non sono italiano perché non parlo italiano perché appunto ritorniamo a Mario Lodi parlavano un'altra lingua quindi anche nel nostro caso no? che magari può essere il vostro caso può diventarlo sicuramente insomma in qualche altro contesto trattare la situazione che noi ci trovavamo a vivere come una situazione completamente nuova è una cosa come dite analfabeti storici ma non è vero l'abbiamo appena vissuta cioè l'abbiamo sempre vissuta siamo sempre stati in questo territorio migranti quando ci dicevano ma prima la nostra strada famosa è la Marranella forse anche in qualche film in qualche serie anche insomma teatro di alcuni libri gialli che raccontano appunto questa famosa banda della Marranella in cui che era vera in cui si teneva l'armeria della banda della Magliana più famosa forse quella e e quando si diceva invece no perché noi questo era un quartiere per bene in cui ci stanno tutte famiglie che lavorano e adesso ci stanno loro che sporcano fan e quello loro noi e loro e io giustamente potevo dire grazie come dire alla lettura alle lenti al fatto di stare sveglia nella vita che comunque quello era il quartiere anche di mia nonna ai tempi dei tempi e non era vero perché noi quando passeggiavamo ci avevamo il diviato di girarci verso la Marranella dovevamo andare oltre guai a passarci perché non dovevi guardare dentro i bassi non dovevi guardare dentro le finestre delle case perché potevi vedere cose che poi non erano gradite insomma lo sguardo ti poteva andare su delle situazioni in cui era meglio non impicciarsi quindi non era assolutamente vero casomai alla Marranella andando via gli italiani erano arrivati dei lavoratori famiglie normali che si adattavano a vivere nei bassi e facevano una vita insomma normale come la mia vado a lavorare e mi curo della famiglia quindi il racconto la rappresentazione di una realtà è sempre da decodificare insomma da non dare per scontato poi quello che si fa a scuola si cerca di fare a scuola è proprio quello anche se pesa tanto diceva Don Milani ho stretto i denti e sono andato al liceo perché era meglio perché era importante avere le armi per parlare i suoi studenti che andavano invece di andare a mungere le mucche eccetera a zappare a scuola da lui che era severissimo gli piaceva fare ricreazione caricazione per perdere di tempo insomma gli piaceva fare studiare tutto il tempo e quando venivano intervistati dicono beh comunque la scuola è meglio della merda virgoletto scusate però chiaramente un conto è andare a spalare le mucche e un conto è andare a faticare sui libri però quello che ci dà di più insomma è magari una capacità di rileggere e rivivere le cose non dandole per scontato un altro un altro compagno di viaggi per me se poi dopo questi solleciti magari li volete tenere insomma da parte da qualche parte ritrovare è sicuramente è stato Gramsci Antonio Gramsci che si è interessato invece delle culture subalterne si è interessato della cultura popolare come come Pasolini insomma vi citavo poco poco prima non non si è accontentato di essere un intellettuale per gli intellettuali no? intendendo per intellettuale diciamo chi si può occupare di cultura e non c'ha da preoccuparsi dei beni materiali ma è anche intendendo per culture popolari tutto quello che viene espresso non in forma scritta necessariamente ma è cultura e anche questo l'ho ottenuto molto presente perché quando si ci si avvicina al genitore filippino al genitore bengalese in cui magari hai bisogno della mediatrice del mediatore per incontrarti però scopri tante cose tanti vissuti tante idee del mondo che che non avevi previsto proprio cioè che non sono prevedibili se non con l'incontro ma non sono riconoscibili se non ti dai una degli occhiali che ti dicono che ognuno è portatore di una cultura ognuno è un soggetto ognuno in realtà proviene da una cornice culturale piena di senso no? e la cosa che ci interessa poi insomma è dare senso a quello che viviamo ora se volete magari dirmi qualcosa voi ma proprio anche delle domande a secco che vi sono rimaste mi farebbe tanto piacere sicuramente me le ricorderei più di tutto quanto non per forza ma per piacere certo non per forza ma per piacere grazie come dicevano le femministe una riflessione se non è una domanda pronta se no io vado avanti c'è un'altra cosa si può avere il microfono qua funziona forse sì adesso sì funziona poco va bene eh qualcuno vuole fare una riflessione tanti spunti ci sono di riflessione davvero anche domande ma forse è più facile dire la vostra opinione per esempio io pensavo al conformismo adesso sono cattiva con i giovani me lo consenti Vania? posso? tanto non mi importa niente tanto non mi importa niente loro sono non violenti quindi io dico adesso vediamo se colgono il segno io vi vedo molto conformisti molto superficiali molto meno freghisti che è molto aspetti negativi ancora un altro totalmente succubi dei media del telefonino dipendenti quasi tossici del telefonino e questo è l'aspetto negativo come reagite? questa è una provocazione retoricamente reagite per favore ma proprio per gusto retorico cioè va provocato vi provoco maccherone ma hai provocato vai vediamo chi è che reagisce a questa provocazione che un po' coglie nel segno un po' lo penso un po' lo penso adesso smentitemi voi allora Francesco ci ho azzeccato oppure contesti hai capito la domanda non me la fa ripetere ok ok sono generazioni diverse quindi niente che sono un po' guardate niente che siccome è una generazione diversa cioè siamo cresciuti così quindi mo' io vedo lì 0,9 0,12 non so e scappano fuori alimentari oh fra con l'iPhone 2000 no cioè vabbè dai no io so 50 e 50 io so dalla parte di quelli normali dai lui è normale allora confermate no io non supplico nessuno chi vuol parlare alza la mano regolarmente chi vuol parlare alza correttamente la mano chi chiede di parlare hai parlato allora se le vuoi fa firmare passa pure quelli si ce l'ho allora occhi tace a consente però come si chiama il ragazzo che è intervenuto Francesco Francesco mio figlio e Francesco ha detto una cosa che mi ha colpito molto dice ma questa è la generazione nostra noi questo ci hanno dato siamo cresciuti così e ci possiamo fare che è esattamente la cosa che mi ha colpito di più del discorso di Pasolini che scrive a un certo punto un trattato per i ragazzi si rivolge a un ragazzo tipo Francesco fa il suo trattato e lo dedica a un ragazzo della tua età però quello si chiamava Gennariello e dice io adesso scriverò un trattato fa tutta questa premessa lunga e dice farò un trattato dedicato solo a te perché ti devo spiegare delle cose importanti la prima cosa è che l'educazione che ricevi non è che la ricevi dalla scuola mettiamo in ordine qual è la cosa più importante nella tua educazione lui diceva gli oggetti la prima cosa che ti educa sono gli oggetti come dici tu se a me mi mettete in mano quando sono nato il telefonino io guardo il telefonino gli oggetti non sono neutri sono una lingua sono dei segni che lasciano che creano una lingua e ti connotano senza che tu possa replicare questo diceva Pasolini cioè tu non puoi replicare l'educazione degli oggetti e lui faceva l'esempio io sono nato e mi ricordo la tenda che avevo sulla culla la tenda era una tenda borghese ed una famiglia così eccola è diventata parte del mio essere quindi prima di tutto ti connotano gli oggetti secondo i coetanei i coetanei sono i tuoi educatori veri e quindi giustamente tu dici siamo una generazione siamo una generazione diversa no? perché è vero perché il secondo fattore educativo sono i tuoi coetanei cioè io sto d'accordo Pasolini magari qualcuno no terzo i tuoi genitori però già lui diceva che sono diseducativi i genitori sono i tuoi genitori e poi infine i tuoi professori i tuoi maestri che ti educano veramente soltanto che so io che faccio pepe eh soltanto se ti amano insomma non se vogliono indottrinarti quindi io penso che Francesco l'ha detto bene l'ha detto bene no dico a te perché siamo così perché poi la produzione di oggetti anche inutili e dell'obbligo di consumarli crea una generazione ci condiziona certo che ha quel connotato certo io infatti sono d'accordo con te che ha messo il dito diciamo un po' sulla piaga no? però è anche vero che tu ci richiamavi ad essere svegli eh tu ci hai detto state svegli che significa quest'invito della professoressa Vania stare svegli in che senso ne fa casino macello anche qualche volta se serve ma il suo stare svegli almeno per me l'ho letto come dire Stefano sta attento ai tuoi condizionamenti stacci'attenta ai tuoi a quelli degli altri intorno a te perché la libertà nessuno ce la regala ce la conquistiamo con che? con la consapevolezza con l'esercizio responsabile no? con la fatica io direi che dà gioia certo perché l'ebbrezza della libertà l'esperienza della libertà è importantissima ma non si ottiene senza la fatica del vivere responsabilmente no? allora ecco l'invito io me ne esco da qui stasera con questa cosa c'è una domanda o un parere Luca intanto anche voi riflettete poi intervenite buonasera ragazzi eh sono d'accordo con Francesco e secondo me ha detto una cosa molto importante se non altro non ha detto il trenta per cento cioè già almeno darsi da una parte che non è esclusiva non sentirsi chissà chi ma alla pari con gli altri è una cosa bella complimenti e perché ha dimostrato guarda che muscoli ha dimostrato una forza non solo nei bicipiti ma anche nel cuore perché è stato l'unico che ha parlato come ha fatto Vagna a Roma perché in quel contesto di scuola c'è avuto il coraggio di parlare davanti al politico e così via allora riguarda l'interculturalità io direi questo io sono stato un'esperienza che ho fatto io ho fatto un sacco di anni di scuola però il mese che più mi ha insegnato un po' la vita è quando sono stato un mese e mezzo in Africa in Congo perché ho sentito cose raccontate in un modo diverso e ho visto l'Europa da un'altra prospettiva mi ricordo che a quei tempi il dramma era che nel Kosovo erano morte una ventina di persone per i bombardamenti e in un villaggio dove ero stato io erano morti 24 ragazzi per morbillo quindi cose totalmente diverse ma anche nell'approccio alla vita nel valore della vita ho visto azioni e reazioni totalmente diverse da quelle di casa mia quindi per me quel confronto è stato più significativo di anni di studio allora mi ricordo in un libro adesso è un utile che ti specchi troppo perché non sei tutto sto spettacolo altrimenti rischi di essere sensuale cioè di fare senso allora vi dicevo ragazzi in un libro a me caro c'è scritto che a un certo punto tutti parlavano la stessa lingua e si sentivano talmente forti da toccare il cielo con un dito sentirsi da Dio infatti bravo volevano costruirsi una torre che arrivasse lì alla pari a un certo punto e è stato interpretato come una cattiveria una gelosia gli viene sfasciata sta torre e si ritrovano tutti lingue diverse ma il testo diceva perché parlavano tutti la stessa lingua dicevano tutti le stesse parole è come quelli lì di Roma di Doro Pignattara bravissimo cioè che tutti volevano sentirsi dire la stessa cosa e non è un problema questo il problema è quando con nessuno ti dice una cosa diversa su di te tutti ti danno una pacca sulla mano e ti dice ok vai a fare così nessuno ti fa un contraddittorio nessuno ti dice la verità che gli altri non hanno il coraggio di dirti sul tuo valore e anche sui limiti tutti parlavano le stesse parole e nessuno sava dirti una cosa contraria se no li ridicolizzi li fai fuori per questo qualcuno non parla qua perché c'è paura che gli altri ridano deridano ti banalizzino invece un luogo dove qualcuno racconta cose diverse dice cose diverse di te ma lo dice con libertà d'amore perché ti vuole bene in quel contesto venne smontata sta omologazione e qualcuno ti ha dato la sua racconto di te apprezzandoti anche se da un altro aspetto da lì è iniziata un altro spettacolo di umanità dice quel testo della Genesi per me andare là è diventato una libertà di poter ascoltare senza reagire in modo maldestro ieri un mio amico Abu in gravi difficoltà mi ha telefonato e aveva un problema perché per andare a lavorare in Sicilia quando non c'è lavoro è un casino soprattutto quando per etichette e monocultura tutti si giudicano allora ha chiesto un aiuto per un viaggio per lavorare sfruttato e un prete che spesso incontro quando hai visto questa persona e l'ho incontrato che è uno dei tuoi clienti capito cioè quanto i pregiudizi l'omologarsi può portare a escludere le persone a non comprendere qual è il valore di una vita di una relazione di un'amicizia di un aiuto di una cura questa è la libertà poter ascoltare parole che la raccontano in un modo diverso e io penso che per i bambini di Torpignattara come è stato per me magari non altre culture altre nazionalità anche quelle ma anche altre modalità di vita di situazione fisica o psicologica di cosiddetta disabilità no? ecco questo confronto questo ascolto questa libertà di ascoltare di far parlare gli altri di non metterli a disagio perché potessero esprimersi sarà la più bella ricchezza per quei ragazzini che cresceranno carichi di tante visioni diverse nella possibilità di scegliere perché laddove tutti dicono la stessa parola le stesse parole purtroppo sono condannati solo a se stessi come come quella strega della della fiabba che si guardava nello specchio per apparirsi e condannando la sua vita solo a se stesso senza accorgersi della bellezza anche degli altri ecco penso che l'interculturalità sia proprio una grande opportunità una grazia no? la diversità che inizia già nelle amicizie nel rapporto con gli altri nelle loro diversità e può segnarti dentro insegnarti che la vita è più bella è più grande di quanto già bella è in te ma che bello come diceva Francesco che ci sia anche l'altro 50% di cui fa tesoro quindi grazie Vagna e buon proseguire la tua missione grazie a voi vuoi parlare? lo voglio proseguire ma io volevo anche io ringraziare per parte mia personale perché è stato proprio una no è acceso? ringrazio sentitamente proprio a nome mio personale perché già leggendo il tuo curriculum ho detto questa persona è veramente interessante proprio per l'energia che hai dimostrato nelle scelte continue che hai fatto comunque a difesa degli studenti che Stefani avrebbe tra virgolette retarguido aspramente dico che è un lavoro faticosissimo perché è molto comodo rimanere negli schemi già fatti con la tranquillità che le cose sono giuste in quella maniera anche un vicino di casa con abitudini diverse impone un attimino di sforzo andiamo oltre quello sforzo dobbiamo imparare invece a stimarci reciprocamente ad apprezzarci e il discorso interculturale parte anche dalle piccole cose forse anche un'amicizia anche con un ternano voglio dire che magari c'è una visuale diversa mi obbliga però a fare un po' i conti con quella che è la visuale mia addirittura poi se viene da un'altra abitudine addirittura poi se viene da un altro mondo insomma la fatica è enorme perché avere delle idee sicure via mi fa stare tranquillo quando invece devo cominciare a mettere in discussione a dire forse questa cosa si potrebbe fare in quest'altro modo ma quello c'ha ragione ma magari non mi devo modificare per forza il primo passo forse anche capire come fa le scelte degli altri però piano piano forse anche la modificarsi è il vero passo in cui l'intercultura si è realizzata noi abbiamo piccole esperienze forse nell'ambiente nostro di termini però già cominciano ad esserci no? in un ambiente come il Torpignattara quindi diciamo che la scuola Pisacane tutto sommato è diventata una scuola per bene proprio perché c'ha avuto tutti questi scritti italiani dopo quasi quasi è stata accettata dai ben pensanti chiamiamoli adesso abbiamo tutti i lustri però non sono più i ben pensanti che un tempo ecco si sono modificati anche loro col tempo adesso abbiamo tutte queste famiglie diciamo attente quindi con lavori perché quello che si voleva dalla scuola che imparassero bene l'italiano imparassero bene la matematica fossero dei ragazzini ben istruiti invece hanno capito che la vera crescita si fa con altri strumenti con altri mezzi con un altro metodo e a me il segno del cambiamento me lo danno i bambini sempre quindi i miei alunni nuovi appena proprio arrivati di prima che arrivano in una scuola completamente diversa in cui tutte queste lotte ci hanno portato ad avere mediatori mediatrici insomma situazioni di accoglienza con oggetti reali cose che non soltanto no improvvisazione e il mio alunno bengalese dopo fatta la lezione di inglese una volta e due viene l'esperta di inglese e mi dice ok ma quando la facciamo la lingua bengalese maestra e dico ma c'hai ragione adesso cominciamo a fare qualcosa e noi martedì prossimo andremo a fare la festa della lingua madre seconda edizione per noi diciamo con le scuole ma la facciamo da tanti anni con un'associazione che si cura soprattutto dell'insegnamento alle donne dell'italiano perché le donne sono un argomento che non abbiamo affrontato oggi però insomma meriterebbero veramente un capitolo a parte e quindi insegnano appunto l'italiano alle donne perché vanno più volentieri in una scuola solo femminile perché questa associazione che si chiama Sinitas le accoglie anche prendendosi cura dei bambini piccoli e lasciandole quindi studiare dandole il tempo per farlo e lo spazio e quindi lì abbiamo imparato a festeggiare questa festa della lingua madre ci vediamo in un parco e ognuno ragiona sulle tante lingue che sono nelle nostre classi i bambini adesso si sentono cittadini della propria lingua d'origine e della nuova e lo dicono proprio sono italiani bengalese mentre prima erano intimiditi chiaramente insomma se ti ritrovi in associazione come è successo a noi che era il popolo di Roma all'epoca d'estrema destra che ti megafona fuori contro la scuola e ti fa una specie di picchetto in 40 e ti impedisce di entrare l'oggetto come dire formativo per il bambino è siamoci buoni che non andiamo bene mentre ora è una situazione veramente di riconoscimento e quindi sì sono grata a questi bambini che ci hanno accompagnato in questa ricerca dell'altro venendo a tutte le feste interculturali possibili incontrando la comunità cinese incontrando tutti sono grata a voi che ci cominciamo a aprire sì che ritenete importante ritenete comunque interessante avere nel vostro adesso vissuto personale ognuno la nostra storia adesso fa parte di tutti voi e questo parla a quelle energie la scorsa volta la relatrice Monica ho ascoltato la sua lezione molto bella raccontava anche di energie invisibili che esistono tra di noi non tutto è detto è fuori è cosciente adesso tra di noi c'è questa comunicazione anche attraverso questa storia che abbiamo condiviso quindi in qualche modo ci muoviamo con uno sguardo che è anche comune quindi venire qui e incontrarvi è stato per me molto emozionante grazie di solito parlo con i bambini parlare con dei ragazzi è veramente sì una bella emozione e c'è una una bella attenzione vi ringrazio tantissimo grazie soprattutto a te grazie e buon rientro eh alla tua attività grazie 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 grazie